Ciao ragazzi, ben ritrovati, grazie mille per il sostegno e il supporto che c'è stato nel video delle pagelle di questa mattina, ho visto che è stato molto apprezzato, molto visto, se ancora invece non l'avete visionato ve lo lascio qui sopra nei link, nelle schede. E oggi voglio cercare di parlare anche un attimo delle parole di Allegri ai microfoni nel post partita e di quello che invece è venuto fuori successivamente, proprio negli ultimi istanti prima di registrare il video, cioè delle parole che avrebbe rivolto ai dirigenti dell'Inter. Per forza di cose, motivi legati al copyright, non potrò farvi vedere anche la mimica facciale di Allegri mentre esprime certi concetti, però posso farvelo ascoltare e vorrò anche fermare, in certi momenti stiamo parlando di 5 minuti di intervista, per commentare e dare la mia opinione su quello che è stato detto. Quindi iniziamo subito l'intervista a Canale 5 e già l'intervista si apre nel peggiore dei modi per quanto mi riguarda perché l'inviato di Canale 5 dice A testa alta, ma con che sensazioni? Quali sensazioni? A testa alta, ma a testa alta di che cosa? Esattamente, cioè è difficile trovare la tifoseria Juventina unita sotto un punto di vista analitico di una partita. E' veramente complicato, ultima in ultima quella con il Napoli, secondo tanti preparata bene, secondo tanti preparata male, quindi il mondo del calcio è bello perché lo possiamo analizzare in mille sfacciattature, è molto soggettivo. Ma la partita di ieri sera, credo che 99% contro 1%, che sia stata una partita terrificante. Io non credo neanche che si possa iniziare dicendo mister a testa alta, perché la testa è bassa, bassissima. E Allegri non nega, anzi. Non abbiamo fatto il primo tempo addormentati, non è che abbiamo preso gol e allora abbiamo dormito. Mister, attenzione, iniziamo a scindere gli episodi da quella che è l'analisi della partita. Perché si analizza la partita dicendo, eh, ci siamo addormentati nell'occasione del gol e quindi abbiamo perso 1-0, allora non stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di highlights. Su gol, poi nel complesso abbiamo fatto una buona partita, ma... Non abbiamo fatto una buona partita. Nel complesso abbiamo fatto una buona partita di che cosa? Di che cosa? È ora di iniziare ad assumersi delle responsabilità. Ci sono delle responsabilità. Come si dice bravo quando si vince, bisogna assumersi le responsabilità quando si perde. Perché si sta parlando di ingaggi pesanti percepiti da Massimiliano Allegri e questi ingaggi pesanti devono portare a qualche cosa. Questo ingaggio che viene riconosciuto all'allenatore per il suo lavoro, bene, deve portare a qualche cosa. Perché adesso, prima di andare avanti, io voglio anche fare il punto della situazione. Siamo a quota 99 partite. Col Bologna il 30 di aprile, fra tre giorni, sarà la centesima panchina di Allegri al suo ritorno alla Juventus. Stiamo parlando di 99 formazioni differenti e schierate. Non c'è mai stata una formazione uguale in due partite consecutive. Stiamo parlando di 99 gol subiti, una media di un gol subito a partita. Per una squadra che dovrebbe avere un'impronta prettamente difensiva e dovrebbe fare di quello il suo punto forte per cercare di vincere le partite. 99 gol subiti in 99 partite, con 99 formazioni diverse. Come fai a dare continuità? Zero titoli. Perché l'anno scorso non hai vinto, quest'anno hai già buttato il campionato, hai buttato la Coppa Italia. E vedremo, perché probabilmente riusciremo a buttare anche l'Europa League, è inutile girarci intorno. Oggi uno mi diceva, ma come fai a sperarci? Io ci spero e ci spererò sempre, fino all'ultimo secondo ci spererò. Se poi andate a chiedermi, ma ci credi? No, cioè oggi di fronte a quello che stiamo vivendo, in particolar modo ad aprile, dove in nove partite ne abbiamo vinte due, e sono state due vittorie per 1-0, una con l'Elas Verona, uno con lo Sporting Lisbona e con lo Sporting migliore in campo, sono stati Perini e Scesni. Come faccio a crederci? Come faccio? Come è possibile? Siamo alla resa dei conti. Siamo alla resa dei conti e bisogna assumersi delle responsabilità. Qualcuno mi dirà, ma cosa doveva dire Allegri? Che abbiamo giocato male? Io credo che sia necessario, arrivati a un certo punto, anche rispettare i tifosi, rispettarli con le prestazioni o rispettarli con le dichiarazioni. E voglio proprio andare anche a toccare il tasto relativo al TikTok che ha pubblicato la Juventus, che poi per fortuna ha rimosso, e vi ringrazio perché avete dato voce su Instagram, su Twitter e su TikTok, a questo mio appello in cui vi avevo pubblicato il TikTok della Juventus e vi avevo chiesto di parlarne. Juventus l'ha rimosso, siamo stati la voce, Juventus ha ascoltato la voce dei tifosi. Bisogna aver rispetto per i tifosi. Dopo stagioni difficili, complicate, serate difficili, complicate, se il campo non ci rispetta allora rispettiamo il tifoso, almeno con la comunicazione. E qui non è che ci può essere l'avversario, ti metti i bastoni tra le ruote. Dal punto di vista comunicativo ci vuole rispetto, rispetto per i tifosi. Non si può dire che abbiamo fatto una buona partita nel complesso e che siamo usciti a testa alta da San Siro, ma di che cosa stiamo parlando? Abbiamo tirato poco in porta. No, no, mister, non è che abbiamo tirato poco in porta. Abbiamo tirato tre volte in porta a caso, non abbiamo mai creato una palla goal. Difficile perché è una scuola fisica e quindi siamo usciti e non siamo riusciti a arrivare in finale in Coppa Italia. E senza entrare nel merito del giusto o sbagliato, c'è la sensazione, quantomeno la mia sensazione, che magari quella meno 15 e quella lunga rincorsa in campionato abbia fatto arrivare la Juventus a questo punto forse un po' vuota di energie? Assolutamente no, bisogna ricaricare le energie perché le ultime cinque partite di campionato abbiamo perso quattro, abbiamo perso in Coppa Italia, abbiamo la semifinale di Europa League, bisogna rimboccarsi le maniche, da domani riprendere a lavorare con più cattiveria perché comunque abbiamo il terzo posto a difendere, abbiamo la Lazio a due punti e bisogna tenere lontani la Roma e il Milan. Dicevo nel pagina di stamattina può finire in tragedia, può finire in tragedia perché, come dice Allegri, nelle ultime le stiamo perdendo tutte, poi abbiamo le altre lì vicino, Bologna non sarà facile, ma quello che voglio dirvi io è che qui cerchiamo di allargarli orizzonti perché a me dà sempre fastidio leggere dei luoghi comuni, è Allegri non a gioco, la Juve non gioca bene, no attenzione, qui non è un discorso di giocare bene o di giocare male, qui è un discorso che la squadra fa zero tiri in porta, zero tiri in porta, cioè nel calcio puoi vincere in ogni modo, facendo gol da calcio d'angolo, facendo gol da fuori aria, facendo gol con una mischia, facendo gol mettendo la palla sui piedi all'attaccante, mettendo la palla sulla testa dell'attaccante, andando in verticale, andando in ripartenza, ce ne sono un milione, un milione, noi adesso non superiamo la nostra metà campo, non andiamo oltre la nostra metà campo, giriamo la palla costantemente all'indietro, facciamo possesso palla all'interno della nostra area di rigore, muoviamo la palla soltanto in orizzontale, arriviamo pressati dagli avversari e lanciamo la palla avanti alla ricerca di un attaccante che è sempre perennemente spalle alla porta, quando andiamo sul fondo non mettiamo la palla come dio comanda, quando abbiamo dal limite dell'area la possibilità di tirare non tiriamo in porta. Questi non sono discorsi, giocare bene, giocare male, come si potevano fare all'epoca, anni fa, quando si vinceva il campionato, si arrivava in quarti di finale di Champions, semifinale di Champions, finale di Champions, poi dici sì però cazzo la prestazione. Cioè qui non c'è niente, qui non c'è niente, qui non si sta parlando di giocare bene o di giocare male, qui non si sta neanche parlando di difendere, l'abbiamo visto prima, 99 partite e 99 gol subiti. Non potete dirmi, eh sì però una volta la squadra era più forte, perché qui non è un discorso di livello della squadra, qui è un discorso che mancano le basi per giocare una partita di pallone, qui è un discorso che non si vede neanche più la voglia, l'istinto di andare a graffiare l'avversario, un forcing finale, palla lunga e tutti dentro l'area di rigore dell'Inter, non solo mezzo giocatore spalla alla porta, tutti, dalla Mezzala Pogba, dal mediano Paredes, dal centrale di difesa Danilo che deve fare attaccante aggiunto, dal Chiesa di Maria che si vede, il portiere che sale. Oh ragazzi non c'è stata neanche la volontà di buttare un pallone dentro l'area, non a cercare il giocatore mentre spassiamo dalla nostra difesa. Biala, palla noi dentro l'area, cercando di fare densità, dentro l'area mettendo in difficoltà l'Inter, non c'è stata nemmeno quella roba lì. Oh, quella roba lì la facciamo noi lunedì sera negli amatori, che stiamo perdendo 1-2-0, diciamo, va bene, perdere 1-0, perdere 2-0 non cambia niente, proviamo a cercare il pareggio, lo facciamo noi che non abbiamo minimamente organizzazioni, che siamo dilettanti, che abbia la pancia, siamo sovrappeso e bevia la birra tra primo e secondo tempo. Qui vuol dire che sta mancando l'anima, sta mancando l'anima. E l'allenatore è il primo e diretto responsabile di questa situazione. Primo e diretto responsabile, perché i calciatori sembrano completamente svuotati. È inutile prendersela con i calciatori oggi, eh? Per me è inutile prendersela con i calciatori oggi, perché se io vado in campo una partita non preparata in questo modo qui, in cui non ho l'occasione di capire come posso fare male al mio avversario, ragazzi è come buttare, è come fare entrare un bambino all'interno di una gabbia piena di leoni con una bistecca in mano. E poi dite, eh sì però il bambino non si è difeso, sai com'è? Come fa? Com'è possibile? Qual è la possibilità? Probabilmente non andava buttato il bambino nella gabbia dei leoni. Ieri sera abbiamo buttato al macello i nostri giocatori, al macello. Proprio buttati al macello. E voglio ascoltare quella di Mino Taveri. Cioè poi qua parla di turnover a caso, incomprensibile. Ma un pochino al di sotto. Ma gli errori, ecco, gli errori arrivano per forza di cose. Fagioli col Sassuolo sbaglia per forza, avrebbe sbagliato un altro. Se non era Fagioli sbagliava un altro. Perché se tu sei costantemente messo sotto pressione dall'attacco degli avversari, di giocare costantemente in difesa, prima o poi un errore lo fai. Prima o poi un errore lo fai. Ha sbagliato Fagioli? Sta pagando Fagioli per tutti? Va bene. Mettiamo Fagioli sull'altare del sacrificio. Sacrifichiamo Niccolò Fagioli in nome di un bene superiore. Però allora voglio che si dica che, dato che è stato tolto lui che ha fatto l'errore e quindi si è perso per colpa sua, adesso si vince. E non mi pare che sia così. Ma sì, dispiace perché comunque abbiamo fatto per 60 minuti una buona partita. Ma dove? Credo che l'Inter comunque sia una squadra molto forte. 60 minuti una buona partita? A che sport? In quale sport? Perché? Mi dici una roba del genere? Io accetto l'opinione di tutti. Però mi spieghi il perché è stata fatta. Abbiamo fatto 60 minuti una buona partita. Non sono d'accordo. Ti spiego il perché. Gli abbiamo fatti, spiegami il perché. Non li abbiamo fatti punto basta perché l'Inter è forte. Ma cosa vuol dire? L'ha dimostrato in semifinali di Champions. Ah beh, posto. L'Inter è in semifinali di Champions e abbiamo fatto una buona partita. A questo punto qui dispiace non essere andati in finale di Coppa Italia. Però purtroppo quest'anno bisogna essere molto bravi, bisogna essere forti in questo momento. Tenere bene le spalle larghe perché comunque quando sei in queste situazioni in queste situazioni io non posso accettare che mi venga messo all'interno della discussione solo quando si perde questa situazione. Perché a questa situazione ci sono stati momenti peggiori. Hai avuto momenti peggiori. Quando ci hanno tolto 15 punti. Lì, lì capisci che possano svalvolare. Si era rimesso in piedi tutto. Si era ricompattato l'ambiente. Si era ricompattato il gruppo. Si erano espressi tanti tifosi. Io in primis in maniera positiva per la gestione di quel momento di difficoltà. Benissimo, l'abbiamo messo da parte. Il momento di difficoltà non dico che sia passato ma sicuramente è stato assorbito. Ci ha ridato pure i 15 punti. Adesso è peggio di prima. Non può essere un Albi per sempre. È una motivazione pesante? Sì, certo, lo è. Lo è. Nessuno sta dicendo questo. Ma questa è la Coppa Italia. Questa è la Coppa Italia che non è inquinata, non è toccata dalle decisioni. Niente. Cioè, tu vai lì e la vinci. Tu vai lì e provi a vincerla. Se non ci riesci perché sono più bravi gli altri un applauso perché lo sport è questo. Ma qui tu non puoi dirmi eh, ma sai, il momento è difficile quindi si è sese in capo così. È la Coppa Italia. Ma non c'entra niente. Questo è un trofeo. È un trofeo. Ti capitano di ogni, quindi... Ma... Un po' ce ne vediamo noi perché è domenica il gol con l'anno. Un po', eh. Ma non è il discorso, Dio santo, non è il discorso dei gol subiti. È inutile star qui a parlare dei gol subiti. Sì, li abbiamo subiti. Perfetto. Oh, si può anche fare gol, eh? Breaking news. Prendi gol. Si può pure fare gol. Incredibile, eh? Chi l'avrebbe mai detto? Non lo facciamo. Noi, se è una squadra che gioca per non prenderlo, allora vogliamo fare 0-0 col Napoli, 0-0 con l'Inter, andare a supplementare, vincere a rigori? Stiamo dicendo questo? Stiamo dicendo che la Juventus è una rosa tale per cui non c'è possibilità di riuscire a segnare? Se stiamo dicendo questo, allora io alzo le mani. Però bisogna anche assumersi delle responsabilità perché se la Juve arriva in questa condizione un motivo ci deve essere. Non è che la Juventus è passata la nuvola nera di Fantozzi sulla continasse e adesso non può più fare gol, eh? Ci siamo nervositi e abbiamo preso un gol un pochino da Polli. I ragazzi lo sanno. Andiamo a dire che il gol è da Polli. L'andata comunque è stata una partita con l'Inter. Partita dell'andata è stata una partita dove eri in vantaggio e non l'hai mai chiusa. E poi capita. Come ha sbagliato Fagioli, sbaglia pure Bremer. L'avete vista tutti, quindi... Sì, l'abbiamo vista tutti. Sì, l'abbiamo vista tutti. Perché tutto passa e poi si aggiusta e poi dopo alla fine le cose tornano. Alla fine le cose tornano. Che cosa torna, mister, alla fine? Cosa si aggiusta? Che cosa passa? Cioè, di cosa stiamo parlando? Cosa significa questa frase? Ecco, questa è una domanda interessante. Il tuo piano partita, no, Max? Qual era? Cioè, ci ho un po' sorpresi senza la punta centrale. Forse perché a quelli che mancavano. Poi Milik magari aveva anche giocato tanto, quindi non aveva tutti i minuti. Però il tuo piano partita qual era? Mettendo due giocatori esterni, no? Non due giocatori d'aria e di rigore. Dove siete mancati? Perché non è riuscito? Tant'è che poi tu hai cambiato giustamente all'intervallo. Ho cambiato perché comunque quando erano bassi loro era difficile. Cioè, loro li prendevi in contropiedi nel primo tempo. Nel secondo tempo, quando loro si sono abbassati molto, era normale che ci fosse più presenza in aria. Milik aveva fatto un'ottima partita l'ultima volta con Napoli e veniva da un periodo di assenza e quindi c'era bisogno di farlo recuperare. Con Vlauic fuori, Ken fuori, ho dovuto far giocare Chiesa, ma ero convinto che facesse bene al centro avanti. Si è dato da fare. Qual era il tuo piano partita? Dato che giocavi senza una punta ma con Chiesini Maria davanti, che sono due esterni. Milik aveva giocato con il Napoli era stanco. Vlauic era fuori, Ken era fuori. Allora stiamo dicendo che l'allenatore deve semplicemente fare la formazione. Allegri ha sempre parlato, Allegri ha sempre parlato di esaltare le caratteristiche dei calciatori, metterli all'interno di un contesto in cui magari non appariva un gioco spumeggiante ma venivano esaltate le caratteristiche dei calciatori. Alla domanda qual era il piano partita rispondiamo e gli altri non c'erano. Allora come vengono esaltate le caratteristiche dei calciatori? Per quello vi dico, ragazzi, è inutile parlarmi dei calciatori. È inutile dirmi essi però di Sciglio, essi però Bonucci, essi però Chiesa, essi però Bremer, essi però Locatelli, essi però Di Maria. Certo, se dobbiamo fare la pagella dei calciatori, come abbiamo fatto stamattina, diamo la valutazione. Ma questi giocatori, Bonucci che non gioca dall'anteguerra, De Sciglio che non riesce a fare più di 90 minuti perché poi si disintegra, l'abbiamo visto, Di Maria che è diventato zia Maria Chiesa che il centravanti non lo può fare neanche a bigliardino. Cioè, prendiamocela con loro, d'accordo, massacriamoli, massacriamoli, massacriamoli. Vergogna. Vergogna ai calciatori che non ci credevano e non volevano, che non hanno voluto giocare la partita. Però ditemi anche quali calciatori messi all'interno dello stesso contesto preparato in questo modo poteva riuscire a fare meglio perché allora se andiamo a criticare questi calciatori dobbiamo anche avere il coraggio poi di dire quali sarebbero stati quelli in grado di fare meglio nel contesto di ieri sera? Quali? Quali? Perché qui non è il discorso sì ma cavolo ci mancava Vlaovic sì d'accordo però proverai a giocare la palla a terra proverai a non lanciarla sempre proverai a fare una ripartenza proverai a non essere sempre solo schiacciato proverai queste cose queste cose almeno le proverai anche se non c'è Vlaovic anche se non c'è Pogba anche se non c'è Tizio Caio e Sempronio ci proverai perché adesso noi ai microfoni possiamo andare lì far tutte le dichiarazioni del mondo far sembrare la stagione una cascata di zucchero filato con le fatine che danzano intorno ai cioccolatini alle caramelline tutte queste cose meravigliose facciamo finta che sia Natale tutti i giorni facciamo finta che non ci siano problemi che abbiamo giocato 60 minuti bene che siamo usciti a testa alta facciamo finta di tutte queste cose facciamo finta di tutte queste cose però poi Landucci contro il Napoli a Spalletti pelato di M ti mangio il cuore Allegri ai dirigenti dell'Inter siete delle M tanto arriverete sesti andiamo a dire ai calciatori che dobbiamo arrivare sopra di loro come i bambini all'asilo noi possiamo far finta che vada tutto bene che sia stata fatta una bellissima partita con l'Inter meravigliosa fantastica fantasmagorica facciamo finta di tutto tutto meraviglioso perfetto però non c'è serenità e io capisco la questione estracampo perché io non voglio stare qui a far finta che quella roba lì non esista perché quella roba lì purtroppo esiste purtroppo esiste quante volte ne abbiamo parlato e quante volte abbiamo detto che va a influire una stagione però non può essere solo quello perché non dimentichiamoci che questa stagione questa stagione qui non doveva finire con Massimo Milano Allegri in panchina questa cosa non dimentichiamocela non dimentichiamocela che il momento giusto per separarsi e salutarsi era Monza dopo il Monza perché c'era la pausa nazionale c'era quello slot importante in cui poter fare due settimane fatte bene per quello lì era il momento giusto per salutarsi quello lì quello lì allora chi causa il suo mal pianga se stesso perché io ragazzi non ho paura a dirlo non ho problemi a dirlo tanti ancora vengono qui ti sei svegliato io ragazzi l'anno scorso avrei confermato Allegri per andare in controtendenza rispetto agli ultimi due anni di macello di allenatori perché li abbiamo macellati Pirlo e Sarri li abbiamo presi e abbiamo fatto dell'ottimo ragù di salsiccia con Pirlo e Sarri li abbiamo messi nel tritacarne e li abbiamo fatti uscire così d'accordo perfetto nel momento in cui riprendi Massimiliano Allegri li fai quattro anni completamente in antitesi rispetto a quello che è calcio moderno anacronistico rispetto a quelli che sono incontrati d'accordo lo fai non vuoi avere problemi diamogli il secondo anno perché l'anno scorso vi dicevo quest'anno è stato un fallimento totale in generale però l'anno prossimo allora se lo confermiamo perché ci sta a dare un secondo anno di lavoro a quelli che scegli il prossimo anno voglio dei netti miglioramenti ci sono stati questi netti miglioramenti la risposta è no la risposta è no perché rischi di fare praticamente la stessa roba poi magari vinceremo pure l'Europa League e io me lo auguro lo spero sarò il primo a scendere in piazza a festeggiare meraviglioso vi dico anche che non ci credo e vincere l'Europa League non mi fa mandar giù un campionato che per l'ennesima volta non abbia nemmeno giocato un campionato che ci vede lontanissimi dalla prima posizione una Coppa Italia che ancora una volta è il trofeino del contentino e non portiamo a casa nemmeno quello un girone di Champions infernale un girone di Champions infernale il peggiore della storia della Juventus il campionato che ci allontaniamo e il girone peggiore della storia della Champions è prima della penalizzazione è prima della penalizzazione quindi non mischiamo non utilizziamo non cerchiamo di alzare il tappeto e buttarci sotto la polvere non facciamolo non facciamolo non si è cambiato col Monza si è andati al Mondiale non si è cambiato durante il Mondiale perché poi è successo quello che è successo dimissioni non dimissioni respinte c'è un problema più grande d'accordo allora si va avanti così fino a fine stagione e si guarda poi cosa si raccoglie cosa si sta raccogliendo niente si sta raccogliendo niente ripeto magari si vincerà l'Europa League però vi faccio una domanda quell'Europa League che magari forse eventualmente chissà potremmo forse in una timeline strana in cui magari l'alziamo vi ripaga di tutto quello che c'è stato quest'anno dal punto di vista sportivo e quindi riconducibile direttamente alla gestione Massimiliano Allegri a largo va a ripagare di quello che è stato gli ultimi due anni di Juventus la mia risposta è no anche vincere l'Europa League non salva né capra né cavoli non salva né capra né cavoli è soltanto un contentino per non farmi essere per non farmi arrivare completamente distrutto al termine della stagione e questo è quanto fatemi sapere la vostra un po' qui sotto nei commenti di Juventus